e sapete anche che l'Italia si era già mossa in questa direzione a livello bilaterale rilanciando la cooperazione con l'Egitto nell'ambito del piano Mattei cooperazione che domenica scorsa abbiamo ulteriormente concretizzato con la firma di diverse intese bilaterali grazie a questa rinnovata cooperazione e buoni rapporti coltivati abbiamo raggiunto l'importante risultato della scarcerazione di Patrick Zaki ma a differenza di quanto sostenuto da alcuni non abbiamo interrotto e non intendiamo interrompere la ricerca della verità sul caso di Giulio Reggeni come dimostra il processo in corso in Italia che il governo segue con molta attenzione e rispetto al quale ci siamo costituiti parte civile